mago gargamella in azione ma dove cacchio sei andato? ma sei scemo? vai giù a farla giusta che cazzo vuol dire così? ma perché? se noi su 20 persone dobbiamo avere un paio di stronzi cioè guarda dove è passato ma guarda dove cacchio sei passato cioè? che è più difficile così che farla a diritta come no? dai falla giusta una volta per favore si sta contento a godo e voglio andare a casa intera oggi ho detto che forse dopo due anni gliela dà e lui vuole andare a casa meno col pistolino ma sai perché? perché c'è sul catarinfrangente il catarinfrangente lo sbilancia da tutte le parti guarda dove ce l'ha in mezzo alla schiena ce l'ha in mezzo alla schiena non lo vedi? ve l'hai messo dietro tiralo via vedi dove ce l'ha tiralo via io mi lo tocco con le foglierie ah Stefano no Stefano non toccare eh non toccare Stefano eh non toccare Stefano eh è la quale c'è dentro i pesci trovato 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 l'ha trovato è nuovo? cazzo portatelo via è nuovo eh ecco così si vede di più la volpe adesso ecco a posto anche qua il campo gli attrezzi no 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 dei preoperativi noi della protezione qua vedi l'italiano sono qui e ascolta me tutte e due questo qui aiuta con la trazione quello lì viene via anche lui adesso vedi? è staccato non devi ascoltare uno strumento quindi taglia tutto fammi mettere in sicurezza dai aspetta che mettiamo il ponte che appena gli scivola il piede va giù lui il coso e tutto il resto effetti spettacolari oh daglielo al Marco quello resterà fuori un bello spuntoncino quello vedi la gomma fa puf si fermi lì si vuole un po' hai buccato la gomma mi dici che stai mai una bestia eh bene sa di cosa taglia cazzarola basta a posto Marco puoi provare quello un altro taglia il tubo là eh anche quello lì un altro il tubo là ma cos'è plastica ma quello di plastica quello ti serve come indicazione per imbucare giusto è un altro ferro anche quello abbiamo i fuochi artificiali anche al campetto buon va che bello vizie cavolo spettacolo no la plastica fa niente eh ma è brutto dai tagliaglielo tagliaglielo che almeno è contento sennò va a casa che ci pensa ancora al pezzo di plastica tua moglie gliela vuole dare non tromba perché c'è il tubo eh buon a posto ciappa buon via la foto che sta mangiando la pizza era incazzato perché? ah lui si incazzato ma ecco chi era incazzato a mangiare la pizza che vi è arrabbiato i soldi sono andati per più anni come questo dovremmo avere e non continuare a piantare tu so come quello che erano con me cioè io vivevo con 2500 euro a mangiare la pizza